Sì, allora buonasera a tutti, come si diceva, e grazie per la partecipazione, anche perché sono le 5 e mezza di sera di un martedì, e quindi siamo neanche a un terzo della settimana, sì, quasi, stasera alla fine saremo un terzo. E cosa mi occupo io? Mi piace definirmi ormai sempre di più un orientatore, un orientatore con una formazione come counselor, coach, mi occupo di orientamento a partire da quest'anno dai 10 e la persona più anziana che ho incontrato aveva 65 anni, quindi orientamento a 360 gradi, nello specifico poi parte del mio lavoro va sulle scuole, in particolare una forte esperienza per quanto riguarda l'orientamento degli adolescenti, quindi passaggio dalla scuola media alla scuola superiore, ma adesso sempre più anche sto incontrando studenti delle superiori e ultimamente universitari disorientati rispetto a quello che stanno facendo. Ho pubblicato un libro a riguardo che si intitola Mi Decido, collaboro con diversi enti e in particolare con Ericsson, casa editrice, con la quale ho pubblicato anche il libro che se volete potete scaricare gratuitamente anche dal sito della Ericsson Live. Ecco, questo in sintesi. Bene, grazie appunto Massimo, vi presento brevemente io, Giancarlo Manzoni, coach, counselor, formatore, facilitatore, ormai faccio questo lavoro da più di 20 anni, mi occupo essenzialmente anch'io di orientamento anche degli universitari e soprattutto degli adulti in organizzazioni, ho fatto diversi interventi all'interno delle scuole, sull'intelligenza emotiva, sull'intelligenza multiple, fra l'altro questo sarà anche un po' l'argomento di questo webinar, ma soprattutto sono in questo ruolo di accompagnatore di Massimo e di chi ci vorrà appunto seguire all'interno di questo percorso, come responsabile di Metalog Italia, che è la società che ha introdotto una metodologia, direi, innovativa dal punto di vista dell'utilizzo di strumenti esperienziali in contesti di apprendimento, tanto che lo slogan Metalog è pur apprendimento. Il tema delle scuole è assolutamente importante, anche se in questo momento lo stiamo vivendo a distanza, almeno alcuni veramente in presenza, stando continuamente anche con gli alunni che ne hanno bisogno in questo momento, pensando anche a quegli studenti che comunque vanno a scuola, appunto come mio figlio, per necessità anche da decreti ministeriali. Detto questo, il tema della scuola è assolutamente importante ed ecco perché io e Massimo abbiamo deciso di portare avanti questo seminario anche online e non in presenza per affrontare più che una parte strumentale, molto operativa, una parte metodologica, perché c'è bisogno di risvegliare le intelligenze qualunque esse siano. E quindi questo è un po' l'argomento su cui vogliamo confrontarci anche con voi, e che sarà anche un po' il fil rouge e il tema del seminario online che faremo insieme. Altro punto importante è la prima volta che Metalog, che rappresento, quindi la casa tedesca di produzione di questi strumenti, vuole portare online una sua parte metodologica che generalmente viene fatta ovviamente in presenza, ma anche perché è venuto il momento di condividere, di compartire e soprattutto di integrare, come abbiamo sempre fatto e come necessario, pensieri, opere e soprattutto esperienze che possano effettivamente facilitare e fortificare quello che gli insegnanti soprattutto, ma anche gli studenti stessi, stanno vivendo all'interno di questo momento scolastico, di questa situazione, proprio pensando al loro futuro, perché poi quando escono hanno bisogno di qualche cos'altro, come effettivamente dice Massimo, per i lavori che sta facendo. Bene, detto questo, se Massimo vuoi aggiungere, se no partiamo direttamente con la presentazione. Sì, Sessi, ma intanto parla pure, a partire che aggiungo un piuttettino a quanto ha detto Giancarlo, nel senso che questo corso nasce proprio anche da un incontro fra me e Giancarlo, dove abbiamo riscontrato alcune affinità metodologiche per quanto riguarda il metodo Metalog e la teoria orientativa che personalmente ho cercato di portare avanti in questi dieci anni. E la cosa interessante è che confrontandoci sulle metodologie ci siamo ritrovati su una parola che è fondamentale in quelli che sono i processi di apprendimento, e cioè facilitare, facilitare lo sviluppo e potenziamento di alcune abilità che ritornano utili poi ai ragazzi nella gestione non soltanto di quello che è un apprendimento di stampo didattico, ma anche di un apprendimento nel mondo reale, nella vita reale. E a questo proposito qui è emersa la seconda nota che ci ha accomunati, e cioè come potenziare e rendere ragazzi più capaci, più efficaci nel rispondere a un contesto che si presenta sempre più incerto, alcuni lo definiscono con questo acronimo VUCA, volatile anche addirittura, quindi siamo passati da un contesto che prima era definito liquido ora a volatile, dove la liquidità è qualcosa che da un certo punto di vista può prendere ancora forma. La volatilità per dargli forma la devi comprimere in un contenitore, quindi un processo ancora più complesso. E oltre che volatile è un contesto molto, si diceva, incerto, complesso e ambiguo. E rispetto a questa ambiguità ci siamo anche, e rispetto a questa complessità, ci siamo ritrovati a trovare un territorio comune anche dal punto di vista teorico, che è la base teorica di Goleman e di Senga. Giancarlo, riesci a fare partire le diapo? Assolutamente sì, ho venuto anche a chi in questo momento è entrato all'interno. Bene, ecco che condivido con voi lo schermo e iniziamo la presentazione. Sì, come vi stavo dicendo, appunto questo incontro fra la metodologia di Metalog e il pensiero orientativo ha trovato come comune denominatore anche la teoria di Goleman e di Peter Senga, due autori che hanno proposto proprio recentemente anche un manifesto, diciamo, definirlo un testo forse eccessivo, però è un buon manifesto di ciò che la scuola potrebbe fare per preparare in modo più efficace gli alunni alle sfide che poi li aspettano nella realtà. In particolare a scuola di future si teorizza la scuola 4.0 e addirittura Senga sostiene che in alcune parti dell'Europa già si stanno facendo degli esperimenti a riguardo. è la scuola che riesce, diciamo, a connettere lo studente rispetto a quello che viene definita la sorgente della sua creatività. Un aspetto molto importante è questo perché sebbene sembri molto alta l'asticella, in realtà è proprio questa una delle note a cui bisogna cominciare a guardare per preparare, diciamo, gli studenti a vivere l'apprendimento con maggiore motivazione, ma anche perché l'apprendimento diventi una chiave di lettura per muoversi nel mondo. Tant'è che la creatività viene sempre più ripresa fra le skills che poi vengono richieste non solo dal mondo del lavoro, ma dalla gestione, diciamo, della quotidianità in generale. Dove mi permetto di dire una cosa, per creatività intendiamo la capacità di organizzare e gestire gli elementi che abbiamo a disposizione in modo diverso a seconda della situazione a cui ci troviamo di fronte. Ecco allora, sentiamo già il gusto da questo punto di vista dell'apprendimento che c'è sotto perché proprio questa capacità di organizzare e gestire gli elementi diventa un modo strategico di muoversi in una realtà dove elementi ce n'è ormai molti e dove le scelte sono molte, ma dall'altra parte anche le opportunità a cui si ha accesso sono molti, ma l'importante è imparare a gestirle e anche a individuarle. Non so Giancarlo, puoi aggiungere qualcosa? Sì, grazie per quello che hai detto, perché in questa slide, tra l'altro hai anche preparato tu, c'è un piano A sottolineato, almeno barrato, e un piano B. Quindi, guardando un attimo gli studenti nella scuola, hanno bisogno di un piano B. La scuola, come sappiamo, non deve essere solamente un momento di trasmissione di informazioni, ma deve essere un momento comunque di vera trasformazione educativa verso un futuro che sta emergendo e che bisogna appunto cogliere. Quindi, l'avere appunto un piano B, insistere su una creatività che, come hai sottolineato tu, è anche strategica, è assolutamente significativo e importante. E fra l'altro, una cosa curiosa, a parte il titolo, l'arte del cambiamento nella scuola, strumenti di apprendimento e orientamento per favorire la presenza, dopo approfondiremo meglio appunto questo concetto, La cosa curiosa, dal mio punto di vista, per vedere appunto i raccordi, è che molti, anche degli strumenti Metalog, sono stati utilizzati con un altro nome, perché comunque Metalog ha inventato delle cose nuove, ma anche ha trasformato strumenti fatti da altri. Questi strumenti erano presenti all'interno del libro e dei vari libri di Pieter Senghi relativamente alle soft skills da far emergere all'interno di gruppi di lavoro. E questo è un primo punto. Il secondo punto importante, il titolo, un po' come l'abbiamo tradotto, il metodo Metalog in Italia, abbiamo tradotto, e qui posso anche guardarlo semplicemente prendendo appunto anche il libro, progetti di apprendimento esperienziale, emotivo e sistemico attraverso metafori di interazione. Per cui tutta la parte sistemica, tutta la parte emotiva e tutta la parte esperienziale legata all'orientamento è assolutamente fondamentale e quindi diventa proprio la base, la pietra angolare, il fondamento su cui tu puoi costruire un cambiamento e puoi sentire effettivamente la presenza del singolo all'interno del gruppo o della squadra, viceversa. Detto questo, ti cedo la parola o passo alla diapositiva successiva. Sì, 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 magari passo alla diapositiva successiva, dove si comincia ad affrontare in maniera un po' più specifica anche quelle che saranno poi le tematiche che verranno affrontate nel corso dei tre appuntamenti che seguiranno. E cioè in queste tre figure vengono rappresentate le tre abilità, principi, diciamo, che in questo momento Peter Seng e Goleman sostengono necessarie per poi muoversi e orientarsi nel mondo. E cioè l'abilità di concentrarsi su se stessi, l'abilità di concentrarsi e di sondizzarsi sugli altri e poi la capacità di comprendere il mondo. Quindi avere una lettura che diventa più sistemica dello spazio in cui mi sto muovendo e in cui sto crescendo. Tre abilità che promuovono fondamentalmente una maggiore presenza, come c'era scritto nel titolo, e cioè sono le medesime abilità che permettono di attivare anche una sorta di pensiero che viene definito lento. Quindi non è un pensiero tipicamente veloce che è del fare e anche della performance, se mi passate il termine, che spesso all'interno delle aule scolastiche viene allenato ed è giusto anche che venga allenato, ma ciò che sostengono sia Senge che Goleman e ciò che comunque è anche teorizzato nel libro di Tobias piuttosto che nel pensiero orientativo che cerco di portare avanti è che si ha bisogno di allenare gli studenti a rallentare, a rallentare in una fase dove paradossalmente invece tutto è molto velocizzato, anche dal punto di vista, diciamo, della percezione, e che quindi impedisce di attivare quello che è un tipo di pensiero che ci permette di guardare al mondo con maggiore criticità, con maggiore capacità di valutazione. Allora quello che vorremmo nel corso dei tre appuntamenti cominciare a facilitare, diciamo, è una sorta di contaminazione in quelle che sono le prassi quotidiane che un insegnante già porta avanti e che già probabilmente anche in parte conosce. Ma qual è il trucco? Il trucco è che si potenzia una prassi rendendola sempre più consapevole. quindi a un certo punto c'è un'inversione di quelli che sono gli obiettivi da didattici a, diciamo, potenziamento di schemi mentali piuttosto di una formamentis, piuttosto di una metodologia che diventa la chiave di lettura poi che in realtà rappresenta il successo formativo e dell'apprendimento stesso. Quindi Peter Senge e Goleman hanno teorizzato questi tre pensieri, tre tipi di viabilità e dicono che abbiamo bisogno di stimolare e di facilitare ai ragazzi i momenti in cui si concentrano su loro stessi, in cui si sintonizzano sugli altri e in cui cominciano a leggere il mondo. ciò che avviene spesso nel mondo della scuola è che si riserva a questi tipi di pensieri delle occasioni spot. Invece quello che vorremmo passare è che attraverso la facilitazione, attraverso la contaminazione con la didattica è possibile fare in modo che anche nella didattica quotidiana vengono presi alcuni accorgimenti per promuovere continuamente quello che sono questi tre tipi di pensiero. Gian Carlo Aggiungo che quando si parla di presenza, la presenza che è un po' anche la prassi metodologica etaloge che comunque è anche una prassi non solo specifica degli strumenti che poi questa prassi ha creato, ecco creato, ma derivano anche da altri filoni di pensiero, come diceva appunto Massimo. Sostanzialmente però per presenza si intende una piena presenza di testa, di cuore ed essenzialmente di pancia, ma aggiungo anche di anima, perdonatemi se l'anima la disegno un attimo un po' come farfalla, nel senso che quando queste tre o quattro anche intelligenze sono presenti, allora la persona riesce a governare di più se stessa e il sistema, ad essere assolutamente più consapevole. Ed ecco perché la parola rallentare e la prassi di rallentare diventa fondamentale, il pensiero lento citato da Massimo, che nel gergo di Metalog viene detto anche apprendimento inverso. perché è inverso? Perché tendenzialmente l'apprendimento serve per accelerare tutta una serie di dinamiche trasformative, in questo caso piccolo e poco è meglio perché se tu impari in maniera continuativa delle piccole cose è lì che effettivamente ne apprezzi il senso e anche il significato. Naturalmente qui è anche come farlo, poi con che cosa gli strumenti possono essere differenti, non solo Metalog, ma è importante entrare proprio in una prassi consapevole. Sì, sì. Infatti se vai alla slide successiva, qua troviamo proprio quello che ci stavi dicendo Giancarlo, cioè la presenza attenta e quindi anche da un certo punto di vista l'attivazione sensoriale e poi troviamo il cervello e il cuore come elementi che partecipano a quello che è un processo di apprendimento e una visione che è allargata rispetto al mondo. Allora, rispetto a questa modalità, ecco, quello che non posso dire è che ho cominciato anche nei miei interventi orientativi a diffondere un po' questo tipo e approccio culturale dell'orientamento che non è soltanto la scelta ad esempio finalizzata della scuola futura, ma ad esempio dal punto di vista orientativo la scelta diventa un momento in cui posso cominciare a collocare ciò che decido all'interno di un sistema più allargato e quindi si compie quello che è proprio un salto evolutivo dall'io a una dimensione più del noi. In tutto questo cuore e cervello e pancia come detto sono elementi fondamentali così come allenare la capacità di essere presenti rispetto anche al qui ad ora che è tipico invece degli adolescenti essere sempre proiettati nel dopo in quello che succederà. È un esercizio continuo che si può attivare all'interno di una classe attraverso piccoli diciamo piccoli spazi riservati a rallentare e per fare questo bisogna semplicemente utilizzare delle tecniche che permettono l'attivazione di questo tipo di pensiero. Quindi il trucco è facilitare anche attraverso ripeto la didattica quelli che questo tipologia di pensieri e questo tipologia anche di allenamento in maniera tale che si rafforzano e si depositano. Si rafforzano e si depositano. Ecco fra l'altro qua si apre effettivamente un mondo perché noi stiamo facendo un corso online quando in realtà tutto questo dovrebbe essere fatto in presenza ma qui c'è il paradosso perché anche facendo i corsi online la presenza e l'apprendimento deve essere assolutamente facilitato per fare in modo che tutti non solo stiano attenti ma si ricordino e si di meno. Invece il fallimento della perdonatemi sutilizzo questo termine io che in realtà come anche Massimo ma guardo in questo momento il mio mondo sto facendo tanta didattica e formazione a distanza che comunque ha anche alcuni pregi vedo comunque delle limitazioni enormi e quindi l'insegnante dall'altra parte non deve essere solamente l'insegnante ma essenzialmente un facilitatore di processo utilizzando un mezzo che può essere magari differente che poi ogni scuola può utilizzare quello che ha a disposizione che fra l'altro condiziona l'apprendimento stesso e anche la trasmissione delle informazioni un conto è farlo con Zoom un conto è farlo ad esempio con Microsoft Team e l'altra cosa interessante ma a questo corso a chi è rivolto allora naturalmente il destinatario finale sono gli adolescenti però ripeto è un corso per facilitatori insegnanti o insegnanti che vorrebbero diventare dei facilitatori di processo anche attraverso delle modalità didattiche a distanza non solamente in presente perché non solo gli adolescenti sono nel dopo ma molto spesso anche gli adulti sono nel dopo per questa accelerazione a cui siamo in un modo in un altro contaminati dovuto al fatto che dobbiamo rispettare orari e comunque tempi ma è nella discoperta del qui e ora a livello quantomeno di processo metodologico che puoi adottare anche all'interno di una lezione perché comunque stiamo parlando di questo ma con accorgimenti differenti per far ritornare tutto al qui e ora un qui e ora che molto spesso fugge o sfugge anche agli adulti stessi che molto spesso sono degli adolescenti al quadrato nonostante la loro esperienza o possono trascinare dagli studenti stessi quindi magari faccio un salto io in questo momento sulla parte un po' metodologica che diventa anche il perdonatemi il filo il filo il filo rosso di questa di questa giornata allora ho un momento dove le slide sono un attimo si sono un attimo bloccate ma adesso le riprendo appunto un attimo perdonatemi che le riattivo appunto velocemente ecco qua che inverto la presentazione allora perché le sto introducendo io perché le tre giornate sono state appunto pensate proprio attorno alla metodologia metalogue che è stata comunque riconosciuta a livello di facilitazione esperienziale come una delle metodologie anche più efficaci e integrative dell'approccio complessivo allora la prima parte della metodologia metalogue dopo lascio un attimo un po' anche a massimo l'interesse arte relativamente online qui abbiamo tre fasi una fase essenzialmente d'inizio dell'attività una fase essenzialmente di sperimentazione dinamica è una è una è una fase proprio di 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 trasferimento con la vita quotidiana quindi c'è un momento dove essenzialmente si cerca di capire il perché si sta facendo quello che si sta facendo che qui viene definita introduzione al progetto ma soprattutto si definisce lo scenario di introduzione la cosiddetta messa in scena di quel progetto per le persone che lo stanno ascoltando perché ognuno di noi non solo ha dei canali preferenziali di ascolto ma anche dei canali preferenziali di apprendimento tradotto non puoi dare le pere a delle persone che mangiano solamente carne adesso perdonatemi un po' la metafora e quindi come progettare un intervento didattico con o senza strumenti come progettare la messa in scena dell'argomento e delle affermazioni e questo è il primo grande punto su cui bisogna come partire bene come partire bene e questo a prescindere dall'esperienza perché comunque anche il contesto è condizione il secondo punto è la parte proprio dell'operatività mettiamo in atto trasferiamo quella lezione trasferiamo quel progetto o introduciamo quell'attività che può essere video o non video ma che in un certo qual modo diventa l'attività di esempio anche metaforica di quello che vogliamo effettivamente esprimere e quindi come avviare una buona esecuzione e soprattutto come dargli significato e come fare in modo che ci sia anche un'attribuzione di senso e di significato molto circolare fra chi sta sperimentando il progetto di apprendimento il terzo il terzo momento è quello quindi che cosa ti appartiene di quello che è stato detto come lo senti dentro di te come lo vivi all'interno della tua vita appunto personale o familiare che cosa rappresenta per te e quali domande tu puoi fare non solo all'insegnante ma agli insegnanti che stanno appunto attorno a te perché se una domanda apre la ricerca anche una risposta può aprire veramente una nuvola di domande quindi deve avere anche il contenitore giusto quindi queste sono le tre fasi un po' metodologiche dell'approccio metalogue che poi verranno anche approfondite all'interno del corso sottolineando proprio l'aspetto orientativo grazie Giancarlo perché tra l'altro come dicevo in premessa c'è proprio un'affinità anche lo vedete anche tra l'altro perché qua tra l'altro la rappresentazione è molto orientativa di per sé le orme e i vari passaggi riprendo alcuni aspetti molto fondamentali che anche quando si fa orientamento sono importanti non soltanto con i ragazzi ma in generale anche con gli adulti è il chiedersi e Giancarlo proprio l'ha esplicitato il perché nell'introduzione del progetto dedicare del tempo e investire delle energie su un argomento allora questo perché rappresenta già una prima strategia per aiutare i ragazzi a cominciare a sviluppare quel pensiero di concentrarsi su se stessi e poi anche per sintonizzarsi sugli altri perché poi se ad esempio in una classe questo perché lo si fa esplicitare ovviamente questo crea connessione con gli altri ma crea anche vicinanza può creare anche all'interno di un'aula senso di appartenenza che rappresenta per un insegnante un piccolo goal perché a quel punto non viene esplicitato dall'insegnante il motivo del perché si fa la lezione sono gli stessi studenti che ne trovano il senso il significato e poi c'è quello che è il vero e proprio collocamento si chiama in orientamento io lo chiamo così si chiama collocamento nel senso che si entra nello scenario quello che ha definito Giancarlo Metalog si chiama scenario nell'orientamento personalmente l'ho definito cornice concettuale che sarà parte del primo appuntamento e rappresenta proprio una tecnica che introduce anche concettualmente qua stiamo parlando di uno spazio molto intellettivo cioè concettuale non stiamo parlando di qualcosa di concreto eppure il trucco è proprio questo perché attraverso la parola e attraverso le immagini si concretizza si dà corpo a quello che è un concetto che a volte può apparire lontano perché di natura astratta anche se in terza media il pensiero astratto si è già sviluppato per dire prima non lo è cioè i ragazzini in prima media non hanno ancora pensiero astratto ma tuttavia hanno pensiero critico che già in quinta alimentare si sviluppa quella che secondo gli ultimi studi sulla plasticità del cervello la capacità di avere del pensiero critico ma non è ancora un pensiero astratto cioè dove le categorie diventano diciamo non prettamente materiali quindi riusciamo a gestire degli elementi soltanto di pensiero allora il collocamento invece permette proprio di fare questo il collocamento permette di dare corpo a un concetto dopodiché c'è il vero proprio apprendimento quindi come diceva Giancarlo si si trova lo strumento di facilitazione ma una volta che è avvenuto questo passaggio già si è fatto molto perché si è attivata quello che è un canale di partecipazione è come se si cominciasse un viaggio fondamentalmente e ogni volta in una in una lezione è possibile fare questo e creare un'associazione che è di significato fra inizia la lezione inizia il viaggio inizia l'apprendimento e tutto questo fa una somma vincente dal punto di vista motivazionale chiaramente io adesso sto alzando molto il tiro nella realtà dei fatti le classi sono molto eterogenee ma è proprio per questo che allineare diventa una una delle prime operazioni che bisognerebbe fare dal punto di vista didattico allineare perché si diffonda una formamentis e anche una sorta di ripetizione e poi come proprio ha sottolineato Giancarlo una volta che l'apprendimento apprenda e evidenzia un suo significato c'è il trasferimento nella realtà questo è un tipico passaggio tra l'altro di quello che è il ciclo di Kolb ciclo di Kolb per cui l'ultimo passaggio è ma l'apprendimento che ho fatto in questo momento a cosa mi serve in altre esperienze qua si apre nuovamente un altro ciclo però capite che tutto questo dà un movimento all'apprendimento una sua dinamicità una sua dinamicità e nel pensiero orientativo si fa proprio la stessa cosa quindi quello che si facilita è un collocamento della persona rispetto a chi sono oggi non domani e neanche ieri ma chi sono oggi a volte con gli adulti faccio questo questa esperienza dopo che mi hanno raccontato la loro storia perché la tendenza è quella di portarsi dietro un bagaglio anche diciamo dal punto di vista delle esperienze che a volte è anche pesante perché poi quando c'è da ricollocarsi non è semplice quando c'è da rieinventarsi non è semplice allora dopo che mi hanno raccontato la loro storia gli chiedo mi dai una definizione enciclopedica di te adesso e utilizzo questa questa definizione enciclopedica perché voglio che si guardino da fuori e da un certo punto di vista si vedano nel qui ed ora questo è proprio chi sono oggi e da qua da qua una volta che ho capito chi sono oggi posso cominciare a muovermi nel sistema e andare a rispondere alla domanda quali sono le informazioni che mi servono per e poi attivare come ha detto Giancarlo quello che è un'azione quindi la similarità del processo è molto evidente e ciò che mi piace di questo tipo di approccio è proprio poi la trasferibilità in quelle che sono contesti che non sono prettamente didattici ma che supportano i studenti ad affrontare invece in maniera attiva proattiva da protagonisti anche a me piace molto questa parola del protagonismo personale non individuale perché c'è una differenza fra l'individuo e la persona la persona è colui che è collegato agli altri l'individuo è la singola unità questo è un altro tema che sto portando avanti in questi anni un approccio orientativo più sul noi in virtù appunto di prestare una maggiore attenzione Giancarlo a riguardo di questa attenzione cosa ci dici riguardo appunto l'attenzione dobbiamo assolutamente simolare la memoria dobbiamo assolutamente favorire qui c'è un discorso tanto più tanto più ritorno un attimo un po' indietro tanto più hai presenza sicuramente sei attento ma soprattutto dobbiamo fare in modo che la memoria a breve termine sia effettivamente scaldata e naturalmente per fare questo dobbiamo stimolare ogni senso dobbiamo stimolare i cinque sensi ecco perché l'utilizzo di metodi e o di strumenti che portino a riattivare i cinque sensi già portano ad una neurostimolazione appunto forte perché in un certo momento bisogna fare in modo che le persone non solo vedano o sentano ma provino quello che stanno sperimentando all'interno comunque dell'aula quindi tutto tutto il corso serve essenzialmente per aumentare il livello di attenzione e per facilitare il processo per cui è è un tema è un tema e e dici bene a proposito dei cinque sensi perché anche quando ci si deve orientare il primo passaggio in realtà è proprio quello di riattivare l'attenzione e sembra quasi scontata questa cosa ma se invece guardiamo come si muovono le persone spesso sono dentro a quel flusso di pensiero molto veloce che è ricco di distrazione è molto distratto quindi si perdono i dettagli si perdono particolari non si presta attenzione ai diversi elementi che potrei prendere in considerazione sia di me stesso sia di me stesso che vengono definiti i semi anche a volte i semi generativi sia nel mondo quindi dal punto di vista orientativo ad esempio fra le fra le cose che faccio c'è proprio anche quella di svolgere dei laboratori in cui si fa semplice riattivazione dei sensi vista udito tatto prestare attenzione allora per i ragazzi diventa un modo per cui fa l'effetto sveglia se sono laboratori che sono facilitati e attivanti anche dal punto di vista emotivo e qua c'è una chiave di lettura molto importante perché i cinque sensi l'attivazione dei cinque sensi sono funzionali non soltanto ad attivare la percezione dal punto di vista del pensiero ma anche dal punto di vista emotivo e lì avviene un attaccamento dell'apprendimento dal punto di vista mnemonico quindi quando sento un concetto oltre che pensarlo quello si attacca al mio cuore oltre che alla mia mente e insomma si promuove un salto motivazionale ancora una volta per cui all'esperienza socio un'emozione positiva ma anche un salto dal punto di vista intellettivo perché sapete benissimo insomma la teoria delle tre intelligenze ormai è di comune cultura per cui non possiamo solo pensare a un pensiero logico analitico ecco tra l'altro per anche riattivarla meglio c'è comunque una metodologia assolutamente efficace o quantomeno più che metodologia un approccio che è proprio questo e qui proprio ti passo la palla sì sì si tratta proprio di promuovere una ripetizione costante per strutturare una forma mentis quindi nei tre appuntamenti si comincerà a riflettere di come di come utilizzare determinate tecniche di facilitazione per fare in modo di ripetere costantemente quello che è un light motif dal punto di vista della dinamica dell'apprendimento per rafforzare quello che è un modo proprio un approccio al guardare al mondo un approccio di guardare agli altri un approccio di guardare a me stesso che mi permettono poi di al bisogno riattivare questo tipo di diciamo di strategia per rispondere a quelle che sono le scelte a cui mi trovo di fronte nell'orientamento ma anche a un problem solving piuttosto che diciamo a un apprendimento nuovo questo è un po' il diciamo il succo proprio di quello che proveremo a fare in questi tre appuntamenti l'apprendimento nuovo si può fare online certo c'è una situazione di distanza sociale evidente ma quantomeno ci si può provare o quantomeno ci si può provare avendo lo strumento l'approccio e anche la modalità appunto giusta ed è quella che vorremmo anche portare avanti appunto con voi e qui ritorno un attimo al grande tema una scuola può apprendere una scuola può apprendere perché se all'interno di queste immagini non ci fossero solamente gli studenti ma ci fossero il corpo docente e il corpo scolastico nel suo insieme forse forse e se questa fascia rossa rappresentasse la scuola forse attraverso un'interazione sociale e non solo come quella che questa foto vuole esprimere una scuola apprenderebbe effettivamente di più il concetto sta effettivamente nella capacità degli insegnanti e anche se questa foto sta facendo vedere uno strumento che effettivamente non potremo far vedere online far vedere online perché comunque la fascia deve essere gestita all'interno di uno spazio abbiamo condotto questa attività prima del dopo il lockdown quando avevamo dei momenti di respirazione in determinate associazioni dove c'era uno spazio di distanza utile con le mascherine però il concetto è che all'interno del corso anche se adesso vi farò vedere determinate immagini un po' di metalog che vi stimoleranno e verranno anche utilizzate all'interno del corso per affrontare meglio la metodologia all'interno della parte online affronteremo la metodologia con degli strumenti anche metalog che si possono utilizzare essenzialmente a distanza quindi tutta la parte essenzialmente visiva qui la grande domanda è quali sono le dimensioni dell'apprendimento ce ne sono tantissime noi vorremmo in questo preciso percorso porre l'attenzione proprio sulle immagini e soprattutto in generale sui cinque sensi come effettivamente riattivarli in maniera tale che una scuola possa apprendere o riapprendere detto questo qual è il punto qual è il migliore sistema o scuola e qua vediamo all'interno di queste assi cartesiane a sinistra il rendimento che potrebbe essere il rendimento dell'insegnante il rendimento dello studente e poi il tempo e ognuno sia insegnante che studente può partire da diversi livelli di rendimento che potremmo anche chiamarlo anche di prestazione anche se abbiamo già detto fin dall'inizio che questi termini tecnici dovrebbero essere effettivamente cambiati e riviste però il concetto che il rendimento la prestazione dello studente il suo prendimento può essere efficace man mano che passa il tempo l'insegnante o lo studente può essere a livelli differenti ma passando un certo tempo comunque raggiunge un aumento raggiunge un cosiddetto effetto wow ora questa è una slide un po' provocatoria perché se tu riattivi un giusto processo di apprendimento anche con uno strumento adatto che permette di facilitare l'apprendimento c'è un risparmio di tempo notevolissimo mi viene in mente un po' la luce laser quando tutte le persone si muovono insieme all'unisono c'è un una maggiore efficacia con minore sforzo e c'è un movimento all'unisono più coerente di tutti i componenti del gruppo per raggiungere un determinato risultato però bisogna scatenare questo processo bisogna definirne i passi e bisogna anche saper utilizzare quegli strumenti che possono creare la reazione chimica per risparmiare tempo rendendo il singolo insieme agli altri un'unica collettività questo è l'obiettivo del nostro percorso trovare metodi per essere più efficaci risparmiando tempo sì aggiungerei una cosa Giancarlo a quello che hai detto perché la facilitazione che stiamo proponendo è un mix di pratiche quotidiane che ogni insegnante piuttosto che un formatore un educatore può come abbiamo detto ripetere ripetere quotidianamente per trasmettere quella che è una forma mentis anche agendo a volte guardate il modeling fa ha dei risultati fantastici quindi anche se è un modeling puramente concettuale è fatto una volta è fatto due è fatto tre è fatto quattro è fatto cinque la sesta comincia a essere una condivisione e di strumenti che in alcune occasioni possono come ha detto Giancarlo accelerare sono degli acceleratori che danno diciamo quello spunto in più però giustamente come diceva Giancarlo sono strumenti che vanno valutati e pesati nel momento in cui utilizzarle cioè non è sufficiente avere uno strumento di facilitazione fra le mani per ottenere il risultato ma vanno inseriti in una cornice un po' più allargata perché siano dotati di un significato all'interno di un percorso che è fatto di tante piccole azioni quindi una metodologia come si diceva e poi ogni tanto cosa si fa a me piace definirli acceleratori di gruppo acceleratori emotivi e acceleratori sensoriali sono quelle esperienze che siccome permettono permettono di e facilitano la connessione dei partecipanti verso se stessi verso gli altri e verso quello che è il contesto nel quale ci si trova in un solo giro in maniera molto veloce questo fa l'effetto wow ma quell'onda che si crea poi va cavalcata altrimenti dopo un po' si resta ricordo ma non resta come dire quello che è l'effetto dal punto di vista della crescita quindi questo è fondamentale hai proprio detto bene perché in questo riallineamento in questo riallineamento temporale per cui nello stesso tempo ognuno di questi tre soggetti raggiunge sì un livello di apprendimento diverso ma tutti e tre i soggetti hanno una crescita del loro apprendimento diventa importante anche favorire momenti in cui si prova a fare questo movimento anche attraverso dei laboratori specifici e poi nella realtà quotidiana a coltivare continuamente quel terreno tra l'altro i laboratori specifici sono comunque importanti anche per creare un momento di stacco che poi teniamo conto che l'obiettivo in generale per attivare questi laboratori specifici può essere molteplici dall'integrazione culturale magari del bullismo o semplicemente definire quelle regole essenzialmente del gioco rispetto ad un obiettivo più alto che potrebbe essere non solo formativo sul singolo o sulla classe o sul gruppo ma anche proprio dedicato anche alle lezioni stesse mi ricordo che abbiamo utilizzato gli strumenti metal per far superare l'esame di maturità alle persone agli studenti stessi diventavano delle metafore di come si doveva raggiungere un obiettivo e naturalmente superarlo anche insieme detto questo dato che il tempo passa vi tratteremo ancora un attimo ancora per 15 minuti orientativamente quali sono le capacità che vogliamo essenzialmente sviluppare Massimo ne aveva già elencate diverse attorno alla cosiddetta creatività sistemica ma ce ne sono alcuni in particolare tutte queste attività di accelerazione di processo aumentano le capacità trasversali ma ce ne sono cinque che possono essere assolutamente inserite all'interno della scuola del futuro e che naturalmente Peter Senghi sottolinea la padronanza personale quindi la cosiddetta maestria potremmo anche parlare di leadership il leader della classe o il leader che diventa in quell'occasione leader perché viene riconosciuto proprio grazie all'attività condivisa la capacità di leggere gli schemi altrui i modelli mentali un concetto forse non semplice ma che può essere molto facilitato ed esplicitato come tenere il Milan e tenere la Juventus o l'Inter come mai probabilmente c'è un qualche cosa a monte che ti orienta da una parte o dall'altra avere una visione condivisa una visione condivisa rispetto a un tema rispetto rispetto ad una problematica rispetto ad un obiettivo talvolta questo manca sia agli studenti che anche alle classi stesse naturalmente favorire un apprendimento di gruppo perché come aveva detto Massimo prima tanto più c'è accelerazione di processo verso un punto unico uno più uno non fa mai due ma è veramente un'energia complessiva che aumenta e soprattutto favorire il pensiero sistemico quindi queste sono le capacità che adottando una determinata metodologia di processo con determinati strumenti noi vogliamo esaltare sia negli insegnanti sia anche negli studenti vuoi aggiungere qualcosa su questo punto? No assolutamente che insomma sono sono cinque abilità e cinque competenze che dal punto di vista appunto dell'orientamento sono una chiave di lettura fenomenale e quindi mi ritrovo quanto in quanto hai detto Giancarlo è chiaramente potenziare questo tipo di capacità è un obiettivo molto importante all'interno della scuola il trucco è avere consapevolezza che anche quando si fa della didattica è possibile lavorare su questo tipo di competenza ed è chiaro che un occhio di riguardo sempre o un orecchio va sempre tenuto attento e attivo verso questa parte dell'apprendimento chiaramente dopo si sa che un insegnante spesso si trova nella situazione di dover gestire più sfere nella mano e quello che un attimo proveremo a fare nelle tre giornate è proprio provare invece a trovare una metodologia che senza scindere promuove una direzione di apprendimento che può portare a più obiettivi contemporaneamente senza scindere che questo è un grande problema l'insegnante se faccio questo poi non posso fare questo e questo grazie per averlo sottolineato il metodo metalog riesce effettivamente a facilitare quindi gli obiettivi differenti quindi adesso entro un attimo un po' più nella parte un po' metodologica e sensoriale della anche della ripetizione proprio perché il metodo metalog è un processo creativo e costruttivo riesce a lavorare su obiettivi multipli e naturalmente perché viene detto creativo e costruttivo perché ogni esercizio e ogni attività metalog è un'attività di costruzione è un processo di costruzione un progetto o un gioco che la nostra mente o le nostre menti realizzano sia perché ci pensano sopra sia perché essenzialmente utilizzano appunto le mani attraverso questo movimento creativo questi giochi questi strumenti c'è un riallineamento delle nostre percezioni ma non solo come diceva Massimo delle nostre emozioni e tutto questo costruisce sviluppa l'identità del singolo e del gruppo il singolo decide il gruppo decide e diventa un grande riattivatore della memoria attraverso le esperienze sensoriali quindi attraverso i cinque sensi noi registriamo eventi fuori di noi e ricostruiamo attraverso sensi vicini distanti tutto quello che accade e il metodo metalog lo 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 aiuta lo facilita detto questo proprio andando velocemente dato che il tempo appunto passa che cosa dove ci concentreremo innanzitutto ci concentreremo sulla vista e sull'udito questo strumento che in questo momento state vedendo è un po' la fascia del cambiamento che fra l'altro rievoca effettivamente il corso e attraverso una fascia come questa che è essenzialmente la metafora del circolo dove le persone stanno insieme e appunto parlano insieme e comunque ci vedono e si vedono reciprocamente favoriremo un approccio dove l'attenzione sarà al linguaggio alla narrazione all'interrogazione anche attraverso il linguaggio dei sensi favoriremo l'attenzione allo scenario al setting perché un conto è partire guardando la fascia in questa posizione un conto è partire seduti un conto è partire solamente con i ragazzi e non con le ragazze e poi attenzione alla visione il progetto che cosa mi sta comunicando qual è il campo e ho lo strumento a cui il progetto dà forma noi vediamo una fascia del cambiamento perché questo è un po' il titolo dello strumento che potrebbe rappresentare qualche cosa comunque di diverso l'etichetta stessa la danno gli studenti e la dà anche l'insegnante una volta che stimola e dà effettivamente in là detto questo vado ancora velocemente su un'ulteriore parte poi lascio a massimo l'integrazione metalogue con il tatto io aggiungo anche con il gusto e l'olfatto perché se poi voi doveste prendere uno strumento metalogue semplicemente vedete che è un tavolino di legno ma se prendete un legno e lo annusate sentite il profumo della foresta nera ma anche qua grazie al tatto sei più presente sei più attento c'è un'attenzione alle dinamiche relazionali soprattutto quando lo strumento diventa un po' più complesso traballante come questo tavolino ricordiamoci che la memoria è un fenomeno relazionale c'è anche un'attenzione anche all'identità collettiva perché quando tu stai facendo un'attività del genere ad un certo momento non sei più tu ma sei tu con l'altro e con il gruppo e quindi c'è anche un'attivazione di fenomeni corali e di fenomeni rituali che sono assolutamente importanti per la memoria e per l'attenzione e poi naturalmente attenzione a dove metti le mani e quindi in questo caso attenzione anche alle distinzioni a che cosa prendi a che cosa sposti il sentire e fare distinzioni vuoi aggiungere qualcosa Massimo? no fondamentalmente guarda quello che stavo pensando è che ci sono sempre più piani di lettura rispetto a quello che stiamo guardando in questo momento stiamo vedendo uno strumento che prima o poi si potrà ritornare ad utilizzare e la cosa interessante che stavo stavo pensando è come trasformare tutto quello che ci stai dicendo in questo momento in facilitazione anche quando faccio una lezione piuttosto che faccio un intervento riguardo a una tematica cioè questa proprio attivazione sensoriale piena quando sono messo nella condizione di non poter utilizzare degli strumenti così potenti come questi come faccio diciamo che faccio un trasferimento di quelle che sono le metodologie che sono alla base di questo tipo di attivazione e cerco un'alternativa che però mi permetta di riattivare in maniera minore però sempre diciamo con una buona energia quello che è proprio il tatto quello che è la vista l'udito anche quando si è costretti a stare seduti in classe e mi viene in mente quest'anno quando sono andato a fare dei laboratori in prima media che gli insegnanti erano spaventatissimi e mi hanno detto non puoi farli muovere allora ho pensato paradossalmente farò della dinamica immobile è un paradosso ma la dinamica immobile la fai quando hai capito il principio che c'è sotto a determinati strumenti e poi nell'occasione nel momento in cui si potrà riutilizzare questi potenti acceleratori saranno ben serviti era questo che stavo pensando tra l'altro la dinamica immobile è assolutamente importante tenendo conto che anche a distanza tutta la parte facciamo sensoriale che è giusto al tatto l'olfatto non c'è ma nello stesso tempo c'è se tu riesci a stimolarla naturalmente attraverso un processo proprio di facilitazione progettuale ben delineato ti puoi alzare anche quando sei online e puoi far riattivare revocare esatto e attivare determinate esperienze anche attraverso delle fantasie guidate che possono far ritornare la persona nel cui è ora dell'esperienza che ha vissuto e che può naturalmente rivivere in maniera naturalmente differente una cosa comunque importante in mancanza della dimensione effettivamente sensoriale tattile è l'aspetto assolutamente visivo gli insegnanti devono sapere disegnare devono facilitare i processi disegnando o semplicemente scrivendo ed ecco perché tutto ciò che non è solamente video ma immagini come appunto vedete all'interno di questa slide diventa assolutamente riutilizzabile anche a distanza online e diventano delle metafore esperienziali assolutamente rilevanti che permettono addirittura di creare delle narrazioni comuni come vedete all'interno di queste immagini che ad un certo momento permettono di creare una nuova identità collettiva perché qua rientriamo nel processo metodologico dove tu devi riattivare non solo la memoria del singolo ma anche la memoria del gruppo relativamente a un tema a un senso e a un significato a cui poi puoi attribuire il tuo reale significato perché alla fine questi sono degli strumenti che hanno un loro senso ma che poi devono essere trasferite all'interno del mondo reale per cui l'aspetto visivo anche online non solamente a livello di movimento spaziale può essere effettivamente ricreato creando creando dei gruppi di lavoro o comunque dei gruppi di movimento a sé perché l'obiettivo è comunque creare anche quella dimensione emozionale anche online che permetta alla persona di riattivare proprio dal punto di vista neurologico le emozioni che sono alla base rispetto a quel processo rispetto a quel progetto perché ogni lezione è un progetto e favorisce comunque un'identità individuale un'identità collettiva altro punto importante che ogni progetto fa emergere le verità della persona in quel momento per cui le esercitazioni e anche lo stimolo fa emergere la persona appunto nel 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 queora anche a livello emotivo e anche online è qualche cosa che deve essere assolutamente ripristinato tanto che aggiungo Metalog in questo da questo punto di vista sta mettendo tutte le parti e tutti gli strumenti visivi come questi anche addirittura online per facilitare il puro apprendimento anche a distanza grazie ad una appunto metodologica che può effettivamente aiutare perché ripeto l'obiettivo e creare proprio quelle condizioni emozionali per questa identità collettiva sto un po' correndo ma semplicemente alle persone che in questo momento ci stanno ascoltando un ultimo punto è Metalog è l'identità del singolo questa immagine mi fa ritornare a quando avevamo utilizzato la pipeline questo tubo per aiutare gli adolescenti all'interno delle loro megapalestre a superare l'esame di maturità la pipeline è un tubo dove c'è una pallina che scorre e questa pallina era l'informazione che dovevano non tanto passarsi fra loro per superare l'esame ma mettere in fila per poter definire un obiettivo erano le fasi di preparazione dell'esame e quindi è importante dare senso e significato al progetto qualunque esso sia perché essenzialmente la persona si ritrovi ultimo punto e qua chiudo per poi darvi un attimo anche un po' più anche di spazio alle domande è un discorso culturale nel senso che ogni gruppo qualunque esso sia ha una sua cultura e quindi un obiettivo del processo è semplicemente farla emergere o quantomeno essenzialmente definirla ecco perché se noi sappiamo guidare l'interazione riusciamo a far emergere questa cultura e anche le emozioni che ci sono effettivamente dietro una cosa appunto simpatica che in questo momento Metalog ha proprio progettato ultimamente qui è l'immagine della cosiddetta Torre del Potere che è uno degli strumenti di Metalog che ha avuto dei premi proprio formativi a livello internazionale e si tratta di blocchi di legno che devono essenzialmente costruire una torre ma ha fatto addirittura la torre mini ma con dei piccoli blocchetti di legno con delle che possono essere sollevati anche da da ragazzi e anche da bambini presenti all'interno delle elementari proprio per favorire essenzialmente il lavoro di gruppo e per far emergere in un certo qual modo le dimensioni culturali che quel gruppo e quelle persone che stanno giocando insieme perché stiamo comunque parlando di giochi a quest'età in realtà vogliono esprimere quindi siamo appunto sul 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 finire fra l'altro quando si fanno attività del genere le emozioni vanno veramente escono fuori come avevi detto tu all'inizio è un momento di incertezza di imprevisti e se non si risolvono creando una cultura emotiva dal punto di vista della condivisione della gestione non si va assolutamente da nessuna parte ultima slide e qua finisco e ti do anche la parola è che il nostro processo integrato e integrale vuole essenzialmente favorire la neuroplasticità quindi vuole stimolare l'apprendimento questa è un'immagine di un tappeto volante dove la palla deve essere orientata è la palla che cos'è la palla il singolo la palla il progetto che può essere la lezione e questa palla deve entrare nel buco giusto ma non sono solamente io a far muovere la palla ma è tutta la classe che la fa muovere io semplicemente do il là e naturalmente posso dare determinate soluzioni se farla andare a destra se farla andare a sinistra ma la cosa importante è farla circolare perché grazie a questa circolarità le persone iniziano a parlare a sentire a spiegarsi e a capire soprattutto perché si sta facendo quello essendo assolutamente presente quindi muovono la testa muovono il cuore muovono la pancia e tutto quello che ne è correlato questo tappeto volante è quello che in un certo qual modo vuole essere anche il nostro corso per voi un tappeto volante per approfondire le metodiche per stimolare i ragazzi per stimolare le persone che avete accanto perché solamente se vengono stimolate stanno attenti e naturalmente questo si può fare se si ha chiara la visione se si è chiaro il progetto se si hanno chiare le varie fasi e soprattutto come farle e con che cosa farle ma assolutamente bisogna partire con il perché sì sono sono d'accordo con te Giancarlo chiudo e dopo lasciamo spazio ai partecipanti dicendo che appunto nei tre appuntamenti le tematiche che verranno affrontate oltre a tutto quello che ci siamo detti in questa presentazione dal punto di vista metodologico sarà proprio lo scenario o la cornice concettuale nel primo appuntamento quale tecnica di facilitazione il movimento diciamo dal punto di vista metodologico sarà un'introduzione teorica per capire di cosa stiamo parlando anche un'esercitazione pratica per concettualizzare meglio per sperimentare e dopo anche un laboratorio di facilitazione attraverso uno strumento tutte le volte il secondo momento sarà dedicato invece al pensiero più sistemico la capacità di leggere il mondo da questo punto di vista ancora una volta verrà utilizzato un ciclo del rinforzo quale metodologia per facilitare quello che è la nascita del pensiero sistemico anche al di là di quelle che sono esperienze focalizzate solo ed esclusivamente su quell'abilità ma in generale come possiamo utilizzare questo strumento e anche in quel caso verranno proposti degli altri strumenti di facilitazione acceleratori come li abbiamo definiti e poi un terzo appuntamento invece dedicato alla narrazione che come hai detto rappresenta un'abilità e come dire un motore per sviluppare non solo la propria identità come persona ma come identità di gruppo e qui ci aprirà un altro webinar e quindi insomma lo lasciamo per i prossimi appuntamenti dai se no prendiamo troppo spazio i prossimi appuntamenti se volete appunto ispirati noi abbiamo appunto pensati il 19-16 il 23 febbraio alle ore 17-15 per ogni informazione avete le email che sono appunto scritte all'interno di questa slide e poi naturalmente dopo queste tre date porteremo ancora avanti questo seminario perché lo riteniamo non solo un cavallo di battaglia ma fondamentale sia per la parte online sia anche per la parte in presente quindi il film in metalogue posso anche affermare che per un bel po' di anni lo porteremo avanti come approccio non solamente al metodo metalogue ma al metodo metalogue all'interno dell'ambito scolastico ed educativo detto questo vi ringraziamo e interrompo un attimo un po' la condivisione se ci sono delle domande tra l'altro grazie appunto a Giuseppe per quanto ha scritto all'interno della chat che ha scritto dato che in questo momento non è ancora non è più presente Giuseppe se le persone che in questo momento sono ancora collegate vogliono fare delle domande possono scriverlo nella chat o all'interno dell'icona domande e risposte le risposte saranno fornite a noi nel caso non ce ne fossero comunque vi ricordiamo che potete appunto scriversi direttamente o sentirci saremo assolutamente lieti di confrontarci con voi e di approfondire ogni tema vediamo se c'è magari qualche domanda direi che in questo momento li abbiamo trattenuti forse ancora un attimo un po' più del dovuto per cui direi che ci possiamo risentire un'altra volta noi faremo nuovamente una nuovo webinar comunque anche nei prossimi mesi e non è detto che ne faremo anche un altro un po' più specifico relativamente un attimo un po' a questi temi e nello stesso tempo vi ringraziamo per il vostro tempo e per anche la vostra presenza e nello stesso tempo vi auguriamo una buona serata e anche un buon proseguimento di vita personale non solamente appunto professionale poi vi ricordo che siamo comunque raggiungibili anche su linkedin e nello stesso tempo che siamo comunque a disposizione anche telefonicamente per qualsiasi tipo di approfondimento o domande vogliate condividere con noi vi ringraziamo quindi dato che non ci sono delle domande dirette ringraziamo anche Simona Giuseppe per le tematiche e anche Sabrina per quello che sta scrivendo appunto anche all'interno della chat grazie per la vostra presenza buon proseguimento di vita anche a voi e speriamo anche di rivedersi all'interno delle prossime sessioni o anche in altre occasioni ringrazio anch'io ringrazio per la partecipazione ringrazio anche perché vi siete presi il tempo di dedicare uno spazio a degli spunti che spero che siano stati generativi ecco generativi di pensiero ma anche magari della voglia di approfondirli ulteriormente perché dal mio punto di vista ed è un'altra cosa che con Giancarlo condividiamo insomma diffondere questo tipo di cultura dell'apprendimento e dell'orientamento diventa ormai anche una missione rispetto a quello che è il compito e la professione che stiamo portando avanti grazie grazie perché se ne bisogna allora buon lavoro e buona vita a tutti e soprattutto anche buona serata e anche buon anno grazie arrivederci grazie 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 a tutti